Musica Allora qua, si vede il capezzolo, tutti in fila così, non fa niente, io non ci ti ami, non c'è nulla, questa è la mia, al numero uno! Qua casa mai viste? Cos'ha? La cosa che si è pensare a mandorle, si è pensare a mandorle, non ci sono ancora in posizione. Ah, ci siamo in poca, ci siamo in poca, ci siamo in poca! Grazie.